Scriviamo codice modulare e riutilizzabile con le funzioni in JavaScript. Ciao, io sono Michele e ti do il benvenuto in questo corso di programmazione web per principianti. Oggi portiamo avanti lo studio del linguaggio JavaScript e, in particolare, andiamo a capire cosa sono le funzioni e come ci permettono di rendere il codice più ordinato e renderlo riutilizzabile. Le funzioni sono i mattoni fondanti di ogni applicazione che andiamo a creare. Con queste funzioni puoi creare dei pezzi di codice, appunto, riutilizzabili per poterli richiamare in vari punti del tuo programma quando ne hai bisogno senza doverle riscrivere da capo. Con un uso intelligente e appropriato delle funzioni si ottiene un codice manutenibile e quindi che sarà facile da fare evolvere o correggere nel tempo. In questo video vedrai come si scrive una funzione di base, che cosa sono i parametri, come si usano, come una funzione può restituire un valore di uscita e che cosa sono le funzioni anonime. Per seguire quanto ho spiegato in questo video ti serve Visual Studio Code, un web browser. Allora, eccoci qui, ho aperto un esempio di sintassi di funzione in JavaScript. Quindi, come prendiamo un pezzo di codice, lo raggruppiamo e gli diamo un nome in JavaScript, così, allora, apriamo, iniziamo con la parola chiave function, spazio, poi diamo il nome alla funzione e poi abbiamo una serie di parametri, abbiamo anche funzioni senza parametro, non sono obbligatori. Qui proprio possiamo fare il parallelo con una funzione matematica, f di x, f è il nome della funzione e x il parametro. Qui abbiamo il nome della funzione a nostra scelta e appunto i parametri, anche qui potremo averne come no a nostra scelta. Questa è la definizione, oppure si può dire anche firma della funzione. Poi, apriamo una graffa, tra parentesi graffe, aperta e chiusa, abbiamo quello che è il corpo della funzione. Quindi, effettivamente, quello che dobbiamo fare, il nostro codice, le righe di codice che dobbiamo scrivere, è quello che la nostra funzione deve fare. Può sembrare una questione da poco, ma dare un nome a una funzione è molto importante, perché è già una documentazione di ciò che quella funzione fa. Quindi, pensare bene a un nome descrittivo che possa far capire e intuire facilmente che cosa farà quel pezzo di codice, quella funzione. Infine, qui in una funzione c'è un valore di uscita. Infine, nel corpo potrebbe esserci un valore di uscita. Quindi, la funzione restituisce un qualcosa in output. Prende i parametri di input e restituisce qualcosa, un valore o più valori in output. Ma questo è facoltativo. Non è detto che le funzioni abbiano un valore in output. Vediamo un po' di best practice di quando scriviamo una funzione. Nome, descrittivo, riepiloghiamo un po' quello che abbiamo detto, ok? Un nome, per esempio, saluta. È chiaro che spesso fa intuire che questa funzione magari saluterà l'utente o darà un messaggio di benvenuto. Usiamo il camel case per combinare le parole. Questa è una convenzione del JavaScript. Il camel case è concatenare le parole dove la prima inizia con la minuscola e poi ogni parola ha la maiuscola. Questa è una convenzione del mondo JavaScript. Per una nota a margine, i nomi delle funzioni non possono contenere spazi. Quindi non posso scrivere la mia funzione, ma devo scrivere la mia funzione. Così. Cerchiamo di fare delle funzioni molto specifiche e non fare troppo all'interno di una funzione. Questa è una cosa che si tende a fare soprattutto agli inizi della programmazione, di scrivere delle funzioni che fanno tanto. Magari anche delle cose che non sono intuibili dal loro nome. Se faccio una funzione che si chiama saluta, deve concentrarsi, fare effettivamente, contenere le righe di codice strettamente necessarie a mostrare magari un saluto all'utente. Niente di più, niente di meno. Questo rende facile intuire appunto cosa fa quella funzione e sapere che farà solo ed esclusivamente quello. Il codice è più facile da debuggare perché sappiamo, se riusciamo a intuire che c'è un problema in quella funzione, sono poche righe di codice da consultare, guardare e correggere. Quindi diciamo specifiche, specificità, specificità di una funzione. Un'ultima best practice è quella di commentare, direi, commentare il codice. Qui più che commentare il codice non è facilissimo, è sempre un'arte perché bisogna sempre trovare il compromesso giusto da quello che io scrivo come commento, quindi delle righe di codice come sto facendo in questo momento, cioè delle righe di testo libero che descrivono che cosa la funzione o quella riga di codice va a fare. È un'arte, non è facilissimo trovare il compromesso perché più scrivo commento, magari poi anche devo adeguare il commento al codice quando avrò delle modifiche da fare. Quindi è un po' un'arte e richiede molta pratica. Non spaventarti se all'inizio ti viene poco da commentare il codice o lo commenterai troppo, è una cosa che raffinerai nel tempo e farà parte del tuo stile di programmazione. Se lavori in un team, magari ci sono delle convenzioni sui commenti del codice da rispettare, chiedi al tuo team. I parametri di una funzione. Allora diciamo che stiamo facendo una funzione che si chiama saluta utente. Qui tra i suoi parametri vogliamo scrivere il nome. Vogliamo che ci venga passato il nome dell'utente in maniera tale da poter fare un saluto che potrebbe essere qualcosa del tipo console.log nome utente. Quindi andiamo semplicemente a scrivere nei log dell'applicazione il nome utente che ci è stato passato, giusto per fare un esempio. In questa maniera chi vuole utilizzare questa funzione farà qualcosa del tipo saluta utente e tra parentesi ci passerà Michele. Possiamo fare un altro esempio con saluta utente Daniele. Facciamo un saluto leggermente migliore. Scriviamo ciao. Poi come abbiamo visto con catenare stringa si fa con il più e così abbiamo un saluto. Voglio provare questo codice copio il codice della funzione li apro nel browser dove ho già preparato i developer tool quindi apro e faccio F12 vado sulla sezione console copio la definizione della funzione questa la definisce e basta non è che la esegua ma rende disponibile nel mio programma questa funzione poi la vado a richiamare ctrl c, ctrl v e abbiamo ciao Michele la stessa cosa io senza dover scrivere tutta la pappardella la saluta utente con il parametro Daniele mi scrive ciao Daniele come possiamo vedere questa funzione non ha un valore di ritorno cioè questa funzione il suo compito è quello di scrivere un messaggio qui nel log ma non fa l'esito di un calcolo come una somma tipo 3 più 2 che ci restituisce un 5 è questa funzione questo pezzo di codice agisce fa un'operazione ma non ci dà un esito di una qualche elaborazione possiamo anche potenziare dire ok non vogliamo usare sempre ciao come saluto ma diciamo anche saluto e questa ci diventa così usiamo l'altra concatenazione così vado meglio col backtick e vediamo anche un altro sintassi del javascript così 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 manca il dollaro e così riprendo il mio backtick eccolo qua con questa sintassi vado a concatenare utilizzando le variabili richiamate così e a questo punto mi diventa saluta utente e posso dire Michele e poi il secondo parametro è buongiorno che cosa ci aspettiamo che succeda quando eseguiamo questa riga di codice io mi aspetto una scritta nel log di qualcosa del tipo buongiorno spazio Michele andiamo a vedere se è vero quindi prendo questa funzione la metto di qua prendo la riga di codice 5 la eseguo e abbiamo buongiorno Michele un'altra cosa che possiamo fare con i parametri è definirne un valore di default quindi se io volessi semplificare l'utilizzo di questa funzione per chi la utilizzerà in un futuro e dire che c'è un saluto di default che è il ciao lo posso scrivere qui così e scrivo ciao cosa succede? che chi specificherà un valore per il parametro saluto quindi in questo caso posso scrivere buongiorno la funzione scriverà buongiorno Michele se io invece ometto questa cosa la funzione metterà al posto mio il valore predefinito ciao andiamo a vedere prendo crea una nuova ridefinisco la funzione la vado a richiamare di nuovo solo con il Michele e ottengo ciao Michele perché stiamo utilizzando il valore di default ok? se invece vado a scrivere buongiorno Michele vado a utilizzare effettivamente quello che gli ho passato io ok ora analizziamo quello che è il valore di uscita il valore di ritorno il valore di output di una funzione continuiamo a devolvere questo esempio e invece che avere questa funzione che scrive direttamente nel log applicativo gli facciamo semplicemente restituire come output la concatenazione del nome e del saluto quindi cambio console.log non mi interessa più la scritta diretta nel log ma voglio fare voglio che questa funzione mi restituisca come output come esito della sua elaborazione la concatenazione di saluto e nome utente per esplicitare appunto l'output di una funzione scrivo la parola return quando usiamo la parola chiave return il codice il flusso del programma che era entrato ad eseguire la riga 2 immediatamente esce e mi restituisce mi dà come esito questa combinazione di stringhe se io scrivessi qui qualcos'altro quindi per esempio console.log prova vediamo che questa riga 3 già l'ambiente di sviluppo me la fa in grigio un po' un po' grigetta disabilitata perché non verrebbe mai eseguita ti dice codice non raggiungibile perché c'è un return qui sopra che prende e fa uscire l'esecuzione del programma da questo blocco di codice tra le graffe quindi la 3 la riga 3 dalla 3 in poi non verrebbero mai viste perché proprio il return interrompe il flusso di esecuzione e fa uscire il codice dalla funzione ok a questo punto il saluta utente mi dà semplicemente in output mi restituisce in output la concatenazione che io posso prendere e mettere in una variabile quindi faccio let saluto uguale saluta utente e poi posso fare console.log saluto quindi qui dichiaro la funzione che a questo punto non scrive più nel log ma semplicemente mi concatena i due valori i due valori li prendo e li metto in una variabile che chiamo saluto la stringa la prendo in una variabile che si chiama saluto e poi prendo questa stringa e la scrivo andiamo a copy e incollare questo codice di qua pulisco ok e poi faccio invio il risultato finale è praticamente lo stesso ma ci siamo arrivati in maniera diversa un altro concetto con cui dobbiamo prendere confidenza quando usiamo le funzioni è il concetto di ambito o scope in inglese cioè l'ambito in cui sono vive le variabili che dichiariamo all'interno della funzione se io qui dichiaro una variabile la chiamiamo variabile A e ci scrivo qualcosa dentro ok questa variabile A è accessibile solo all'interno dell'ambito dello scope della funzione saluta utente cioè quindi tra queste graffe la variabile var A qui sostanzialmente vedete che non esiste anche i suggerimenti dell'ambiente di sviluppo non mi fanno proposte con questo simbolino che vuol dire una variabile riconoscono che questa parola è già stata utilizzata qui dentro ma non la riconoscono come una variabile questa variabile var A esiste solo all'interno di queste graffe quindi la posso referenziare ed utilizzare solo qui dentro quindi posso per esempio dire che la concateno qui ok la posso usare posso farci tutto quello che voglio qui esiste e funziona come vedete l'ambiente di sviluppo me la propone con questo simboletto di variabile ma fuori da queste graffe non esiste più ora portiamo avanti questo esempio del saluto in una pagina HTML vera e propria perché ora eravamo proprio in un contesto del tutto isolato puro codice JavaScript vediamo come integrarlo in una pagina magari HTML in una pagina statica di un sito che ci quando si apre ci fa vedere ci saluta ho aperto un nuovo file index.html scrivo HTML 2.5 mi faccio aiutare da Visual Studio Code la struttura di una pagina HTML tolgo un po' di cose in più che in questo momento non ci interessano lascio il titolo qua magari ci metto saluto e qui abbiamo il nostro body della pagina nel body qui andiamo a creare il nostro script lo creiamo affogato nell'HTML così da non dover gestire un file esterno per questi esempi va benissimo scriviamo to do quindi da fare aggiungere codice di saluto e poi to do aggiungere un timeout e vediamo che cosa ci servirà piccola sorpresa scriviamo la funzione che genera il saluto ok quindi abbiamo detto function e gli diamo un nome get saluto get vuol dire sono quelle funzioni get quindi ottieni saluto che ci restituiscono un valore di solito mentre le funzioni che scrivono che impostano un valore da qualche parte iniziano per set get e set fratello e sorella get saluto name ci facciamo passare il nome e poi scriviamo tra graffe return vogliamo che venga restituito come valore ciao e poi ci mettiamo questa competenazione ciao nome benissimo questa la mettiamo qua su cambia niente ma sono una preferenza estetica a questo punto che cosa facciamo andiamo a scrivere un altro pezzo di codice dove cosa facciamo andiamo a prenderci e lo mettiamo in una costante message uguale get saluto e ci mettiamo io sono Michele e poi facciamo document otteniamo la pagina web punto write e ci scriviamo cosa il nostro message salviamo il file ora andiamo avanti con l'event con l'esempio e vediamo che cosa vogliamo fare qui quando vi ho detto piccola sorpresa per il timeout diciamo che questa funzione questa pagina che facendo alt b con l'estensione che abbiamo installato ci apre il browser e ci fa vedere ciao Michele vogliamo che ci saluti di nuovo dopo due secondi allora che cosa facciamo impostiamo un timeout che al suo scadere ci saluta di nuovo set timeout è una funzione inclusa di default nel javascript vedete che se cominciamo vedi che se cominciamo a scriverla ci scrive appunto set timeout function che cosa prende come parametro beh prende due cose la prima cosa vuole sapere che cosa fare quando il tempo è scaduto e quanto dura questo tempo il primo parametro è cosiddetto una funzione di callback perché non è un valore come prima qui abbiamo detto ciao ma questa funzione vuole sapere che cosa deve fare e quindi che righe di codice eseguire quando il timer sarà scaduto e quindi non passiamo un valore come può essere un numero un ciao un 27 un 45 a questa funzione ma a questa funzione passiamo a sua volta una funzione per dirgli guarda quando il timer è scaduto esegui queste righe di codice per passare delle righe di codice come parametro le scriviamo così aperta chiusa tonda ok in questa maniera stiamo passando delle righe di codice alla nostra funzione come parametro quindi noi vogliamo diciamo guarda quando il timer è scaduto tu occupati di scrivere document.write e mi scrivi ciao un'altra volta diciamo così ciao ancora via questo opiapice e poi la funzione vuole sapere dopo quanto tempo scade il timer quindi che ne so due secondi si esprime in millisecondi quindi 2000 millisecondi fanno due secondi vediamo che cosa succede faccio alt b ciao Michele ciao ancora dopo due secondi quindi questa è una funzione passata come parametro una funzione può accettare come parametri un'altra funzione in più quello che abbiamo fatto è una cosiddetta funzione anonima per chi avrei potuto dire function salutami ancora senza parametri perché abbiamo visto che era un qualcosa di fisso e fare così e qui scrivere salutami ancora ecco forse così è ancora più chiaro qui stiamo passando come ed eseguiamo vediamo di qua ciao Michele ciao ancora lo stesso risultato qui abbiamo passato alla funzione setTimeout e la funzione salutami ancora cioè allo scadere dei due secondi esegui questa funzione siccome a volte può venire comodo evitare di scrivere tutto questo function qui dargli un nome soprattutto magari non ha non è poi così pratico qualcosa che riutilizziamo così tanto questa funzione può essere utile creare una funzione anonima quindi quello che abbiamo fatto prima lo rifacciamo un secondo quindi qui apro chiudo è praticamente la sintassi della funzione un po' semplificata così questo è il cosiddetto operatore lambda essa è una funzione senza parametri e il corpo è questo tra le graffe esattamente come prima è solo scritta direttamente dentro qui bene ce l'abbiamo fatta in questo capitolo abbiamo visto che cos'è una funzione che cosa sono i parametri che cos'è il valore di ritorno e che cosa sono le funzioni di callback cioè quando passiamo una funzione a un'altra funzione per riassumere velocemente soprattutto quest'ultimo concetto può essere un po' intrippante sì non è così non è così intuitivo e potreste avere bisogno di rivederlo più volte quindi riguardati il video fai soprattutto delle prove perché non è un concetto magari così intuitivo lo so bene anche io le prime volte ho fatto fatica a capire che cosa significa passare una funzione a una funzione e poi abbiamo visto le funzioni anonime vai a rivederlo con calma perché proprio so che non è così intuitivo con le funzioni nella nostra cintura di attrezzi da web developer da developer javascript abbiamo fatto un passo avanti enorme siamo pronti per fare veramente qualcosa di serio fammi sapere cosa ne pensi di questo video se ti è piaciuto metti mi piace iscriviti al canale così sarai notificato quando arrivano nuove lezioni della programmazione web ciao ciao